Siamo qui a Dimensione Social, l'evento organizzato dall'ABI per le banche per parlare di come possono attuare delle strategie sui social network e sul web. Con noi c'è Elena Schiaffino di Engitel che è media partner dell'evento. Come mai Engitel ha deciso di prendere parte a questo evento? Perché serviamo tante istituzioni finanziarie, tante banche, tanti clienti nel settore finance da tanti anni. Rimaniamo sempre dietro le quinte ma ci rendiamo conto oggi che la nostra esperienza, quindi oltre vent'anni di esperienza sul digital e la quantità di clienti serviti è un bagaglio importante. Da condividere anche con altre realtà, magari anche più piccole, ma il know-how è importante e va condiviso. Che cosa si sente di consigliare alle istituzioni finanziarie che vogliono approcciarsi ai social network e al web? Di trovare fornitori che siano in grado di lasciare un patrimonio all'interno dell'azienda cliente. Quindi fornitori che siano in grado di formare le persone all'interno dell'azienda cliente e di portare i risultati tangible, per esempio in termini di vendita, subito al management. In questo modo i processi di innovazione partono e danno successo. Grazie. 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 Grazie.